Musica Ben ritrovati gentili telespettatori, buon inizio settimana a tutti. Grazie come sempre per aver scelto la nostra emittente televisiva. Tante anche oggi le notizie che andremo ad approfondire nel corso di questa nuova edizione del telegiornale del Nordeste. In primo piano una morte a soli 48 anni a Udine. Andremo poi ad approfondire la notizia. La tragedia invece che si è consumata in una bifamiliare a Deraclea. A Pordenone la polizia di Stato invece scopre in tre diverse abitazioni pistole, fucili, a pompa e marijuana. Ci sono stati degli arresti, padre e figlio si perdono nelle Alpi bellunesi. Calano le positività da Covid-19 in Veneto ma è caos sulla riapertura degli impianti sciistici con il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, che ha detto che gli indennizi non servono più. Adesso è ora di chiedere i danni a chi ci sta prendendo per i fondelli. Da tempo anche questo sarà oggetto di discussione nel corso del telegiornale. Il giornale, politica, attualità, tanto altro ancora. Prima però di proseguire i saluti e le prime notizie che arrivano dai colleghi della redazione di Udine e di quella del Veneto. A voi la linea. Ben ritrovati dalla redazione di Udine, Gorizia e Trieste. In primo piano ovviamente la rabbia degli operatori di montagna dopo il rinvio per l'apertura degli impianti. Il rintraccio anche nella notte di un centinaio di migranti in provincia di Udine e tre arresti a Monfalcone per i reati di estorsione e caporalato. Per quanto riguarda la nostra parte invece due incidenti avvenuti ieri. Il primo in montagna a Verzegnis mentre il secondo è avvenuto sul posto di lavoro a Zulio. Spazio infine allo sport con la mara sconfitta per l'Udinese contro la Roma e alla vittoria dell'APU Old West Udine. La linea adesso al collega del Veneto. Gentili telespettatori ben trovati anche dalla redazione del Veneto. Calano enormemente i contagi in Veneto però non bisogna abbassare la guardia. Questo è il messaggio del nostro governatore Luca Zaia. Nelle telegiornali poi affronteremo anche altri argomenti tra cui la notizia di oggi pomeriggio, la notizia del giorno, un brutto incidente che è accaduto a Concordia Sagittaria. Ci sono stati anche altri avvenimenti di cronaca nera. Si pensa a un bruttissimo incendio che c'è stato a Treviso. Poi nella parte Veneta anche importanti servizi relativi al mondo dello sport con la vittoria della Coppa Italia di Pallamano della Mechanic System Oderso. A più tardi. Apriamo allora il telegiornale. Provano a chiamarlo al telefono ma non risponde. Era morto in casa poco prima delle 12 di oggi. Via Santo Svaldo a Udine, un uomo di 48 anni, è stato trovato senza vita a causa di un malore. La vittima si chiamava Emanuele Toniutti e viveva da solo a Udine, proprio nel quartiere di Via Santo Svaldo. La salma è stata affidata ai parenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Udine e gli operatori sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo ma purtroppo l'uomo era già deceduto. Tragedia in una bifamiliare. Andiamo ad Eraclea. Una donna ha incendiato la propria casa ed è morta. Quattro anni fa si era tolto la vita. Il marito, il servizio. Tragedia ieri pomeriggio ad Eraclea. Una donna di 40 anni si è tolta la vita appiccando un incendio nella propria abitazione. L'allarme è scattato attorno alle 16 in una villetta bifamiliare di Via Petrarca dove viveva assieme a uno dei suoi figli che al momento dell'accaduto si trovava fuori casa. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe appiccato l'incendio al piano terra dando fuoco ad un divano utilizzando una tanica di liquido infiammabile. A quel punto si sarebbe spostata al primo piano chiudendosi all'interno della sua stanza poi raggiunta dal propagarsi delle fiamme. A dare l'allarme è stato il vicino di casa che aveva notato il fumo uscire dalle finestre. Per i vicini sarebbe stato impossibile il tentativo di entrare in casa poiché la donna avrebbe chiuso tutte le porte e le finestre. circostanza che però ha evitato l'incendio di attecchire in tutto l'edificio e nell'abitazione confinante. Esaurito l'ossigeno nelle stanze infatti il fuoco si sarebbe quasi spento da solo. A recuperare il corpo della donna distesa nella sua stanza sono stati i vigili del fuoco del comando di San Donà di Piave. Secondo i primi rilievi a risultare fatali sarebbero state le esalazioni e fumi dell'incendio anche se nel suo corpo sarebbero state riscontrate delle ostioni. Pochi in ogni caso i dubbi sul fatto che la donna abbia deciso di togliersi la vita. Dopo la tragica scomparsa del marito avvenuta quattro anni fa la donna aveva iniziato a provare un forte senso di sofferenza interiore ma l'essere che nel corso del tempo è diventato sempre più forte ingestibile e insopportabile fino a portarla a compiere un gesto estremo. La notizia è rimbalzata da una parte all'altra del litorale generando ovunque un grandissimo dolore. Il pensiero dell'intera comunità è andato immediatamente ai due figli attorno ai quali in molti in queste ore stanno facendo sentire la loro vicinanza e sostegno. Ricordiamo a chiunque si trovi in un particolare momento di difficoltà e senta il bisogno di condividere queste emozioni con una voce amica l'esistenza di numerose organizzazioni di volontariato pronte a fornire un servizio di ascolto immediato e gratuito affinché nessuno si senta mai solo. Andiamo in provincia di Pordenone dove la polizia di stato ha sequestrato pistola, fucile a pompa e marijuana ci sono due persone arrestate. Il servizio Avevano delle armi nascoste in casa arrestati in flagranza di reato un 71enne e un 65enne residenti in provincia è il risultato di un'operazione condotta dalla squadra mobile della polizia di Pordenone e coordinata dalla locale procura della Repubblica rinvenuta anche della marijuana dopo mesi di indagini questa mattina all'alba è scattato il blitz gli agenti hanno perquisito tre soggetti e le loro abitazioni a tramonti di sopra Meduno e Monte Reale Valcellina nella prima perquisizione a carico di un 71enne di origine sarda e già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona i poliziotti hanno rinvenuto nel sottotetto della casa dietro alcune piastrelle e tubi di plastica un fucile a canna e mozze modificato con il taglio di una parte della canna e del calcio in legno in maniera da aumentarne la capacità di fuoco mentre nel ripostiglio legnaia occultato dietro una catasta di legno è stato ritrovato un sacchetto di nylon nero contenente 42 cartucce calibro 12 a munizionamento spezzato l'arma come risulterà poi dall'analisi del numero di matricola era provento di un furto avvenuto 5 anni fa a San Canzian di Isonzo il 71enne è stato quindi posto agli arresti domiciliari per detenzione illegale di arma da fuoco alterata a Meduno invece gli agenti della squadra mobile nell'abitazione del 65enne hanno trovato occultata all'interno di un cassetto della credenza in cucina una pistola 9 mm priva di marca e modello con denominazione Made in Italy anche in questo caso l'uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari per possesso di arma clandestina infine a Montereale Valcellina la perquisizione ha permesso il rivenimento in una parte del deposito attrezzi occultati all'interno di un macchinario di due sacchetti in cellophane contenenti marijuana ma le indagini della polizia non si fermano qui le armi potrebbero essere state usate per attività criminali in tal caso la posizione di due arrestati potrebbe aggravarsi padre e figlio si perdono sulle Alpi Bellunesi durante una spericolata discesa in particolare in questo servizio scendono con gli sci lungo una pista non battuta a Falcade nel Bellunese e si perdono è successo ieri sera padre e figlio 47 e 15 anni di casale sul Sile Treviso si sono fatti portare fin in macchina al Salles con l'intenzione di rientrare con gli sci da discesa a Falcade seguendo la pista degli innamorati che però in questo periodo non è battuta non è preparata i due hanno cominciato la discesa arrivati dove la pista fa una grande curva ben disegnata durante una normale stagione invernale padre e figlio hanno invece proseguito dritti non distinguendo l'itinerario corretto sono finiti in un torrentello in mezzo al bosco e ormai prossimo al buio hanno chiesto aiuto bravi parliamo di Covid-19 calano i positivi in Veneto il punto nella solita conferenza stampa da parte del presidente Luca Zaia il servizio con l'inizio della settimana sono ripresi oggi dalla sede della protezione civile regionale di Marghera gli appuntamenti informativi del presidente della regione Luca Zaia sulla situazione relativa al Covid-19 in Veneto alla destra alla sinistra di Zaia l'assessore alla sanità Manuela Lanzarini il direttore della sanità Luciano Fior il presidente del Veneto ha dato lettura del bollettino delle 8 di questa mattina nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 8.221 tamponi il 2,9% di questi 241 quindi ha avuto esito positivo una percentuale molto bassa mostrando le cifre dei pazienti Covid in ospedale Zaia ha sottolineato che i positivi al coronavirus nelle terapie intensive venete sono scesi sotto quota 100 per la sospensione dello sciamatoriale Zaia non vuole solo i ristori ma anche i danni qualcuno deve pagare è cominciata quest'oggi la campagna vaccinale delle persone over 80 coloro che hanno più di 80 anni in regione Fiori Venezia Giulia le 15.30 il totale delle vaccinazioni eseguite ha raggiunto quota 557 su 1.051 prenotazioni previste per la giornata odierna la vaccinazione complessiva che riguarda anche le altre categorie prevede 2.452 inoculazioni odierne 1.149 riguardo le nuove prime somministrazioni per sanitari sociosanitari ospiti delle residenze per anziani e 252 dosi sempre per queste categorie che completano così il ciclo vaccinale con la seconda inoculazione con oggi si prevede di arrivare ad un totale complessivo di 78.175 dosi per tutte le categorie però gli impianti sciistici non aprono oltre al danno quindi la beffa prima i grandi preparativi e poi la doccia gelata ieri sera con un'ordinanza di fatto il riconfermato ministro Speranza va a cancellare certezze e speranze scusate il gioco di parole di centinaia di persone che con oggi avrebbero dovuto vedere la cosiddetta luce in fondo al tunnel non è stato invece così gli operatori di montagna si sentono presi in giro stufi dei continui rinvii dell'apertura degli impianti di risalita il ministro della salute Roberto Speranza ha firmato nel tardo pomeriggio di ieri il provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività amatoriali fino al 5 marzo data di scadenza del dpcm del 14 gennaio un danno per il comparto economico montano di mani dimensioni dal momento in cui una probabile ma non certa apertura potrebbe venire solo dopo il 5 marzo periodo peraltro di fine stagione invernale in condizioni normali e la rabbia degli operatori turistici è tanta un commerciante della montagna regionale scrive sul proprio profilo facebook era novembre che era cominciata la farsa sul rinvio dell'apertura degli impianti tante false promesse per tenere buona la montagna tante finte promesse zero aiuti e soprattutto non c'è stato il coraggio di dire da subito che non si sarebbe mai aperto rabbia quindi ed elusione saluto e ringrazio Luciano Clariz presidente dell'ordine delle professioni infermieristiche del Friuli Venezia Giulia dottore ben ritrovato buonasera direttore buonasera a tutti i telespettatori grazie per essere tornato in nostra compagna rabbia ed elusione si sentono un po' presi per i fondelli ristoratori albergatori soprattutto anche gestori degli impianti di risalita che con oggi avrebbero dovuto cominciare a dispensare ski pass anche perché sono stati giorni molto intensi di lavoro pulite le seggiovie gli impianti c'era le piste a sistemare e ieri è arrivata la doccia fredda allora io mi chiedo perché non si dice concretamente secondo lei seriamente in faccia alle persone mettetelo da parte che quest'anno sarà una stagione da cancellare cominceremo a rimborsarvi ma non mettetevi insomma nulla in testa perché così non si apre invece si continua sembra un po' a un malato terminale che sai che deve morire ma non sai quando ma vedi direttore come abbiamo detto più volte questo succede perché continua sempre quel giochetto di mega esperti che poi devono fare audience in tv chi dice una cosa chi dice il contrario di quello che ha detto uno è chiaro che finché ci sarà questa confusione finché ci saranno tutte queste persone che continuano a dare notizie contrapposte è chiaro che alla fine andiamo in conto a quello che sta succedendo non c'è chiarezza le persone non sanno quello che succede sono disorientate io credo che è stata pura follia il fatto di non riaprire impianti scistici all'ultimo momento nel senso che mi spiego è vero che siamo in un momento di criticità ci mancasse è vero che abbiamo ancora tantissimi morti tantissime persone che purtroppo sono ricoverate la terapia intensiva è ancora piena non è che è cambiato qualcosa rispetto alla settimana scorso o al mese scorso abbiamo qualche numero in meno sui ricoverati per fortuna ma la mia paura è che poi la pagheremo fra due settimane quando poi si tornerà a fare un po' il resoconto di quello che sta succedendo in questi ultimi giorni e di quello che sta vedendo poi in giro quindi chiedo secondo me la follia qual è? il fatto di chiudere un impianto scistico non permette di accedere dove c'è la possibilità in ogni caso di controllare gli accessi perché c'è uno schipasto quindi in realtà puoi gestire il sistema lasciando però aperta la possibilità a tutti quanti andare a fare con gli slittini con i bob insomma attirarsi le palline centinaia e centinaia di persone quindi io non capisco la logica di queste limitazioni o si limita a tutto o non si limita a niente cioè queste cose a metà in realtà non risolvono il problema lo portiamo avanti ancora pertanto e purtroppo non finirà quello che stiamo pagando e quello che stiamo vivendo in questi giorni che impressione dottore ha avuto ieri e sabato girando per la città e non soltanto per la città perché ristoranti benvenga per i commercianti per gli esercenti erano pieni io ho visto non faccio nomi e cognomi ma all'esterno di un ristorante che fa sushi diciamo la pietanza non il nome del ristorante tavoli pieni e 15 persone fuori in coda a mezzogiorno e un quarto ieri per non parlare di altre ecco situazioni ha letto oggi la nuova ricerca coreana che dice a pranzo non bastano più il metro di distanza anche i due metri per effetto dei droplet che poi si diffondono in l'area potrebbe essere molto rischioso contagiarci e noi insomma stiamo vivendo questa pandemia proprio scrive il giornale coreano che ha proprio portato avanti anche proprio questa nazione una ricerca e come la mettiamo a questo punto? Bene direttore è vero quello che dice è vera la ricerca ha una sua logica in ambienti chiusi è chiaro che il metro non basta più bisogna anche trovare sistemi diversi anche di ariazione di distanziamento per questo si prega alle persone che quando vanno a pranzo quando non stanno mangiando di mantenere la mascherina è chiaro questo impedisce in qualche modo oppure diminuisce la possibilità insomma di di mandare in giro appunto queste queste goccioline che possono creare il problema però dottore siamo io e lei e di fronte in un tavolo mini perché non tutti sono attrezzati poi ci sta un po' libero e tutti gli imprenditori giustamente cercano di fare i loro interessi lei dice giustamente mettiamo la mascherina ma quando mangiamo mangiamo non possiamo mettere un buco fare un foro alla mascherina e soltanto parliamo ecco in questo caso qua no no ma siamo fregati cioè se io non sono positivi no ma allora è in dubbio è chiaro che ogni azione che noi facciamo in cui non riusciamo a mantenere l'assoluta tranquillità o non riusciamo a delimitare il problema è un rischio sempre in più ci mancasse allora io dico vede insomma ho giustamente cosa si è visto domenica in giro mi hanno detto che noi troviamo un ristorante neanche un buco se volevi pagarlo a peso d'oro impossibile mi hanno detto che dal mare alla montagna c'era veramente il disastro di gente allora io cioè va bene non c'è non c'è responsabilizzazione da parte delle persone io comprendo e non possiamo lo ripeto tantissimo oltre non possiamo neanche uccidere questa nazione con la parte economica non possiamo fare in modo che se non si muore di covid si muore poi di fame però una via di mezzo bisogna trovarla la via di mezzo è questa cercare di avere un po' di buonsenso cercare di lavorare in ambienti protetti fare in modo che siano controllati i ristoranti piuttosto che bar piuttosto che lo skill io preferisco andare a sciare in sicurezza sapendo che oggi possono andare 100 persone e se sono 100 persone domani vanno altre 100 anziché avere migliaia di persone che poi si accavallano e si accavalcano insieme in posti ristretti per giocare con i bambini cioè non è cambiato anzi abbiamo peggiorato la situazione allora secondo me le cose controllate sono le migliori o lavoriamo in questo senso o non ci sono cose alternative poi dico la verità di tutto quello che stiamo facendo il problema più grande rimane sempre lo stesso bisogna vaccinare le persone bisogna vaccinarle e con i numeri che stanno vaccinando adesso e con le persone che riescono a vaccinare con gli infermieri che possono vaccinare arriveremo fra sei anni a terminare la campagna vaccinale cioè questa è pura follia allora è bene che qualcuno in Regione a Roma ovunque prenda in mano questa situazione e permetta agli infermieri e al pubblico in piedi di vaccinarle le persone di accelerare i tempi perché è l'unico sistema per impedire la diffusione di questo maledetto virus e abbiamo le prove guardi che se lei si ricorda bene fino a qualche mese fa abbiamo tantissimi operatori sanitari che erano positivi ammalati per il covid adesso non c'è nessuno ammalato ora che sono tutti vaccinati non abbiamo più colleghi ammalati positivi o a casa in malattia vuol dire che il vaccino sta funzionando e che se facciamo la stessa cosa con tutte le altre persone probabilmente abbiamo risolto non dico risolto i problemi ma meno lo abbassiamo ecco dottore è giusto seguire un po' il modello di Veneto e Piemonte che vedendo le lungaggi imputabili giustamente la burocrazia ad un'Europa rispetto agli Stati Uniti o alla Cina ferme in una situazione di stallo è poco da fare cause ad AstraZeneca ed altri che vogliono andare tramite i presidenti a intercettare i vaccini in forma privata cioè dovrebbe fare anche il frio di Venezia e Giulia dovrebbe cioè ogni regione con una sorta di federalismo dovrebbe andare a intercettare sul mercato i vaccini o dobbiamo ancora fidarci insomma di Europa e del nostro governo che inizia ma guardi ma guardi io preferirei che fosse fatto all'euro nazionale una cosa per tutti e che vada bene è chiaro che però se questo può migliorare che sia anche la possibilità alle regioni di prendersi avanti insomma di anticipare i tempi cioè per me tutto quello che permette di migliorare la situazione va sempre bene se non si riesce a livello europeo piuttosto che nazionale ad avere una come dire una possibilità di insomma di accelerare i tempi diamo anche alle regioni questa possibilità non vedo qual è il problema l'importante è muoversi cioè noi siamo troppo fermi ripeto abbiamo fatto un conteggio stamattina per vaccino di tutti sei anni ci vogliono senza contare i giovani senza contare i giovani ora io mi chiedo che senso ha a che punto siamo abbiamo vaccinato siamo 60 milioni di abitanti in Italia abbiamo vaccinato un milione e passa allora basta fare poco a fare i conti non ci siamo non ci siamo bisogna muoversi l'unica risposta è il vaccino altrimenti è chiaro che l'alternativa qual è? lockdown totale chiudere per mesi è quello che nessuno vuole io volevo proprio arrivare qua ieri sera c'è stato un po' di scompiglio di sconquasso già quando Speranza ha tolto la Speranza poi ancora uso il gioco di parole a tutti dicendo da domani non si scia impianti chiusi almeno fino al 5 di marzo c'è stato proprio questo scoramento questo diciamo senso di delusione però Ricciardi un consulente del ministro ma anche Palù che è uno dei virologi più conosciuti di fama internazionale sono stati molto chiari stringere i denti sacrifici per ancora qualche mese vaccinarsi e ne usciremo Ricciardi addirittura propone un altro lockdown totale con apertura solo dei servizi essenziali e un lockdown soft diciamo non più 2-3 mesi come era stata la prima fase ma 3-4 settimane è la soluzione giusta considerando che adesso c'è variante inglese brasiliana e sudafricana in circolazione Sì infatti direttore questa cosa qua era giusta secondo me se fatta dopo l'estate aveva una logica perché veniamo fuori al momento in cui c'era stata una certa stabilizzazione del sistema poteva esserci una chiusura si arrivava forse insomma al periodo di talizio con più tranquillità più tempo si aspetta e più diventa duro cioè io non è sbagliato quello che dice Ricciardi piuttosto che lo dice Polù anche gli altri ognuno ha le sue ragioni però ripeto in ogni caso si va a intaccare qualcosa che non va da una parte creiamo un problema dell'economia dall'altra parte creiamo ancora più morti e più gente ricoverata dall'altra parte la sanità esplode quindi bisogna trovare una via di mezzo io ripeto sono sempre più convinto che l'unica via di salvezza in questo momento è la campagna vaccinale bisogna muoversi su quella c'è dei tempi poi si vedrà insomma chiaramente se i numeri tornano a salire nulla potrà impedire che ci sia un'altra chiusura se i numeri rimangono stabili forse potremmo anche immaginare come potrebbe essere più logico delle chiusure insomma sezioni imposte in base per dare anche un po' di respiro a chi ha bisogno può anche sopravvivere a livello economico quindi certo Presidente abbiamo capito che ormai la stagione invernale è quella i sciatori possono mettere su un po' il cuore in pace ristoratori albergatori anche le nostre zone continuano sicuramente ad essere punto di riferimento ma lo sci i fondori salite velocità slalom e quant'altro non si possono praticare per colpa del covid ma si sta cominciando a preparare la stagione estiva ne abbiamo parlato anche più volte con l'amico Flavio Caramia insomma Lignano Aprilia Bibione Caorle Eraclea Jesolo e beh le nostre spiagge si stanno attrezzando che estate lei prevede? Ma guardi io le dico se facciamo una previsione guardando anche quello che è successo la scorsa estate credo che si possa anche stare abbastanza diciamo più tranquilli nel periodo estivo è pur vero che per fortuna tutti i nostri albergatori chi ha delle attività commerciali nel settore turistico al mare sono attrezzati e sanno come fare a tentare di per quanto possibile limitare appunto l'infezione del virus bisogna stare attenti bisogna avere essere responsabili bisogna utilizzare tutte le conoscenze che abbiamo per impedire che ci sia la trasmissione io credo che iniziamo a ragionare su come come attrezzare in modo corretto le spiagge gli alberghi i bar le strutture che non sarà un'estate come l'abbiamo trascorso negli anni passati purtroppo questo bisogna metterlo in chiaro però secondo me con un po' di buon consenso con un po' di responsabilizzazione e con un sistema di controllo importante ci vuole anche che controlli effettivamente che vengono rispettate le regole si può anche dare la possibilità insomma alle persone ma anche a chi poi deve gestire una stagione turistica insomma di sopravvivere in questo momento di criticità dottore Cedio Venerdì grazie grazie da vero come sempre a Luciano Clarizza presidente dell'ordine delle professioni infermieristiche del Friuli Venezia Giulia grazie a lei direttore buonasera grazie per essere stato in nostra compagnia cambiamo argomento parliamo di cimitero islamico a Pordenone si è parlato nel corso di un convegno promosso dal partito democratico oggi è arrivata la netta la netta risposta da parte del sindaco della città Alessandro Ciriani che dice assolutamente no a questa ipotesi sentiamolo da qualche giorno è nata una discussione attorno alla necessità o meno di realizzare un cimitero islamico esclusivamente islamico a Pordenone è una discussione nata sulla scorta di un convegno sulle sepolture islamiche organizzato dal preto democratico a cui ha fatto eco la presa di posizione che è nato sindaco centrosinistra e ha fatto scalpore perché la mia risposta è stata no cioè non sento e non vedo la necessità e neppure una priorità realizzare un cimitero islamico a Pordenone uno perché non ci sono i numeri due perché abbiamo già difficoltà nella gestione dei servizi cimiteriali ordinari e realizzare un altro francamente sarebbe abbastanza complicato resta il fatto però che è rimasto abbastanza sullo sfondo che il comune di Pordenone ha già dato risposta soddisfacente alla comunità islamica di Pordenone perché ha riservato nel cimitero di Villanova un'area che ospita circa che può ospitare circa 15 salme dove se uno desidera può essere all'interno di un cimitero trovare una collocazione vicino ad altri musulmani altri prediligono il cimitero di Orai perché dicono essere orientato verso la Mecca quindi si vengono seppelliti dove c'è spazio ma orientati verso la Mecca la stragrande maggioranza sceglie ancora di rimpatriare la salma perché vuole che venga custodita e ospitata in un territorio sacro per gli islamici oppure va in un cimitero di Verona dove c'è un'area riservata come quella di Pordenone resta il fatto però che i cimiteri italiani di Pordenone come qualsiasi altro cimitero in provincia di Pordenone sono laici non sono cimiteri cattolici ovviamente prevalgono le croci perché siamo un popolo di tradizione cattolica ma in realtà un ateo un agnostico un ebreo qualsiasi fede religiosa o uno professi può trovare ospitalità garantita sicurata all'interno delle strutture cimiteriali del nostro Stato quindi è una polemica totalmente pretestuosa che non ha ripeto senso di esistere perché la cosa più importante è che noi garantiamo a un italiano uno straniero a un cattolico a un musulmano a un ebreo una sepoltura dignitosa ed un servizio che gli assicuri comunque il massimo rispetto quindi non c'è mai stato un trattamento di favore verso i cattolici e invece un trattamento marginalizzante nei confronti dei musulmani proprio perché c'è un'area destinata detto questo è anche vero che noi non possiamo accogliere tutti i morti musulmani per cui il PD magari potrebbe chiedere ai comuni in cui governa di fare altrettanto cioè quello che ha fatto Pordenone oppure di aprire un cimitero consortile cioè un cimitero in cui vengono destinati tutti i colori quali sono fede islamica in un terreno qualche comune sicuramente avrà più terreno di Pordenone dove ripeto la nostra densità urbanistica ormai è talmente elevata da non trovare più spazi sufficienti in cui ogni comune procuota metterà le risorse dipendentemente dal numero di persone che chiedono di essere seppellite questo sarebbe un gesto interessante ma bisogna avere anche il coraggio da parte di qualche amministrazione del PD di farsi avanti ripeto e capire se gli altri comuni sono d'accordo infine ripeto noi abbiamo garantito dignità e rispetto nei confronti di tutti sarebbe anche interessante che il PD sappia che mentre qui in Italia e a Pordenone è possibile farsi seppellire in un'area riservata con la mezzaluna islamica sulla propria tomba che a molti cristiani in giro per il mondo questo è un diritto assolutamente negato e quindi anche combattere per la reciprocità di adattamento sarebbe una battaglia di civiltà questo dunque era il sindaco della città di Pordenone Alessandro Ciriani che è intervenuto parlando della possibilità palesata e paventata di avere un cimitero completamente islamico a Pordenone dice delle soluzioni ci sono e va bene così non ci sono altre insomma soluzioni da trovare saluto e ringrazio l'amico Eligio Grizzo vice sindaco del comune di Pordenone e qua diventa anche una situazione pro politica no dopo allora mi consenta questo pensiero di Fratelli d'Italia il pensiero della Lega è sempre stato questo cioè per una buona integrazione tu vieni in Italia ti integri pensi come gli italiani entri nella società italiana e fai anche tutto quello che fanno gli italiani cioè tu avrai anche un'idea diversa della religione ma nella religione ti stai all'interno delle quattro mura di un cimitero perché questo vuol dire accettare completamente quella che è la società italiana la Lega sempre ha portato avanti questo argomento a me non va bene di fare un altro cimitero fuori perché dobbiamo rispettare tutte le religioni anzi sono proprio contrario a questa cosa io credo che i musulmani e vorrei fare un inciso direttore che anche recentemente abbiamo spedito una salma giù in un paese arabo proprio perché uno voleva rientrare era in stato di povertà le sue ragioni le aveva lasciate per iscritti e noi le abbiamo aiutate a riportare la salma al loro paese però credo che ormai per una buona integrazione si debba anche capire che se uno vive qui produce il reddito lavora ed è una persona corretta che ha accettato quelle che sono le norme comunque date dal fatto di diventare cittadino italiano la cosa più importante è che accetti anche di essere seppellito in terra italiana con i suoi convincimenti i nostri cimiteri sono laici non sono esclusivamente cristiani perché abbiamo anche delle persone di diverse altre religioni che sono più diciamo più inserite all'interno di una società che accoglie tutti e il luogo è la dimora finale credo che sia proprio il segno importante di dire alla fine tutti ci siamo inseriti in quella che è una società che noi vogliamo sarà anche multietnica perché non potremmo farne a meno ma però è così sicuramente perché vice sindaco tirare fuori adesso questo argomento se ne era parlato già in passato però pareva che la strada ormai fosse incanalato adesso il partito democratico senza nulla togli poteva essere anche il 5 stelle poteva essere anche l'EU Italia dei valori che non c'è più e quant'altro però però giustamente c'è un motivo secondo lei è iniziata la campagna elettorale è iniziata la campagna elettorale che non si ferma solamente alle tombe degli islamici eccetera ma ha cominciato quel problema dell'ospedale stanno cominciando a combattere per mille cose stanno tirando fuori un sacco di cose soprattutto la sinistra che non hanno ragione di esistere stavamo parlando l'altro giorno proprio con il sindaco e anche con il direttore generale dell'azienda sanitaria il dottor Polimeni beh della riforma dell'ospedale di Pordenone bene la riforma dell'ospedale di Pordenone passa dal presupposto che esistono dei primari che servono per i reparti e non dei primari che devono essere nominati solo perché far primario fa bene perché non è così un buon primario è uno che fa bene che salva tanti pazienti e allora un buon primario come li avevamo prima qui avevamo delle eccellenze che veramente hanno insegnato agli altri come comportarsi all'interno della sala operatoria se vi ricordate noi eravamo una specialità della mano certo e quindi senza fare nomi era il dottor da mele era espertissimo e venivano tutti qui allora dico non serve un primario se non è un primario capace capace soprattutto di attirare le persone che vengano da altre regioni e vengano a operarsi da noi questa è la vera idea di fare dei primari poi c'è il problema dell'ospedale di San Vito e di Spilimbergo è stato chiarissimo anche Alessandro Siriani nello stesso incontro eravamo insieme io lui e il direttore generale e in realtà ha detto bene anche San Vito non è un ospedale che deve morire ma è un ospedale comunque di rete che deve avere gli stessi primari che poi governano anche probabilmente Spilimbergo perché sono la stessa la stessa inclave e quindi è giusto che San Vito abbia la sua capacità di trovarsi dei primari che però devono essere capaci di portare la gente di avere delle specialità e non tanto perché abbiamo un primario che governa a una serie di reparti però è stato brutto mi permetto da parte del direttore generale definire i primari dei poltronai guardi io non ho detto che sono i poltronai ma io sono convinto no l'ha detto sono persone che hanno la poltrona vabbè manco possono dei politici il politico viene definito colui che siede su una sedia e non si stacca più certo se no si stacca più a definire un primario che ha fatto un trascorso a un pedigree importante un poltronaio ma probabilmente si riferiva a quelli che in realtà tengono la poltrona e non tengono la specialità perché in realtà la specialità è quella che richiama in maniera molto chiara i cittadini ad andare ad operarsi dove c'è una certa fiducia e questo può essere un aspetto molto importante e abbiamo fatto questo e poi più avanti vedremo perché vi dirò è cominciata la campagna ma non solo per la sinistra e cominciata anche per noi cominceremo adesso anche a spiegare le nostre ragioni del perché la regione ha fatto certe scelte poi questa storia che scusatemi un attimo io sono 25 anni che sono in politica e sono sempre stato il detto perché la gente mi ha scelto perché ritiene che il mio sapere e il mio vantaggio di dare alcune esperienze e soprattutto di condurre come sto facendo adesso ad esempio i servizi sociali sia stata non solo un'esperienza pagante per me perché lo è stato ma è pagante per chi in realtà ha lavorato poi io presenterò durante la mia campagna anche una serie dei 130 interventi che ho fatto che sono interventi in realtà che hanno cambiato un po' i servizi sociali quindi noi ce la mettiamo tutte il valore aggiunto dell'esperienza è una cosa importantissima e credo che questo debba valere per tutti dal primario all'assessore a tutti gli altri non è una questione di polterona se tu fai bene il tuo lavoro devi essere riconfermato perché porti avanti il primo quinquennio e poi continui a fare il secondo e concludi tutte le cose che hai preparato sia nei primi cinque anni per poter poi svolgere completamente il secondo mandato io poi ho un'età che spero che pian piano anche qualcuno arrivi anche ad affiancarsi perché vede l'età è come avere uno specchietto retrovisore voi guidate la macchina guardando avanti ma lo specchietto retrovisore vi consente di capire tutto quello che accade o quello che è accaduto perché io le cose che vengono a proporre adesso le avevamo già passate dieci anni fa ma non se ne ricorda più nessuno allora sono capace di dire guarda che stai sbagliando perché questa cosa è una cosa che non funziona l'abbiamo già provata dieci anni fa ed è inutile riproporlo oggi si riprofondono molte cose fermo lì perché poi parliamo di premio San Valentino e giornata dell'affido parlava di politica parlava le piace questo nuovo governo è un governo un po' strano un po' tipico è composto da persone che fino a qualche mese fa dicevano mai con uno mai con l'altro alla fine ai 5 stelle per esempio è andato anche bene Berlusconi al PD è andato bene la Lega e viceversa gli unici forse un po' più coerenti sono stati quelli di Fratelli d'Italia a me sono concesso che Draghi che Draghi sia stata la persona che ha fatto questo trade union cosa ne pensa? cosa vuol dire coerenza? coerenza bisogna che sia una coerenza intelligente coerenza mai mai in maggioranza con tutti facciamo la grande ammucchiata allora l'Italia ha un grande problema oggi ne avete parlato per ore qui un grande problema un problema che deve essere risolto a favore degli italiani io mi alleerei anche col diavolo se salvo una vita ve lo assicuro e se trovo una squadra che funziona bene che siano verdi gialli o diverso colore e portano a buon favore quelli che possono essere le attività degli italiani riuscendo a rimettere a posto la sanità a far vaccinare tutti a dare lavoro soprattutto a tutti a trovare una nuova Italia che sia Italia e una riscossa all'interno del paese europeo beh guardate io mi alleo con chiunque proprio perché bisogna sapere un attimo anche ritornare indietro sulle proprie idee peraltro vi dirò che noi abbiamo preso come Lega un tre ministeri proprio piccoli perché pensate che Giorgetti col MES i soldi arrivano tutti lì quindi vuol dire che probabilmente io lo conosco Giorgetti lo ritengo una persona molto degna ma soprattutto anche inquadrata e pronta a reagire senz'altro farà delle buone cose se poi vicino avrà uno di 5 stelle o uno del partito comunista o qualsiasi altra cosa che farà altrettanto bene le cose ah è vero mi dicono che non esiste più il partito comunista ormai abbiamo perso anche questo o il PD in questo caso bene vedremo cosa succede è chiaro che noi sì però all'interno ci sono tante anime c'è chi vuole il MES chi non vuole il MES chi il Reggio di Ranzo lo vuole chi non lo vuole sono degli ostacoli ideologici allora sì sono delle battaglie che sono state portate avanti e difatti l'ideologia ha portato le guerre ha portato a quelli che sono le disgrazie dell'Italia precisiamo una cosa parliamo anche del MES prendono o no noi abbiamo bisogno di questi soldi che si voglia o no perché altrimenti l'Italia non sopravviverà il reddito di cittadinanza ragazzi non funziona così io ce l'ho ne ho 25 non funziona ma non perché non funziona l'uomo che prende i soldi non funziona intanto la selezione non funziona la possibilità di dare un giusto lavoro e soprattutto non funzionano le regole che sono state fatte io pago 800 euro un cittadino italiano che non ha lavoro e quando chiedo vieni a lavorare 6 ore da me e no ne devo lavorare solo 4 perché così sta la legge cioè chi ha fatto la legge che è un demente perché chi ha fatto quella cosa di un demente perché se io prendo 800 euro al mese e ci sono dei pensionati che ne prendono 5, 600 anche 400 se ne prendo 800 mi spiace ma io vado a lavorare anche 8 ore al giorno se serve tanto non ho niente l'alternativa è far niente e allora tanto vale la pena andare a lavorare come richiede un'istituzione quelli che ho lì mi fanno sorridere perché in realtà loro si attengono a quello che è un regolamento se hai due fratelli tu non puoi andare se hai un lavoro notturno non puoi farlo se è un lavoro che richiede magari un minimo di particantato anche per tagliare un'erba eccetera non lo posso fare perché deve essere specializzato ragazzi se guerra è guerra punto chiudiamo mi dilungo un po' perché fortunatamente rispetto magari a venerdì o sabato dove non riuscivo neanche a agiarmi oggi riesco a respirare un po' di più premio San Valentino è giornata dell'affido io comincerei dal premio San Valentino perché abbiamo anche delle bellissime foto ah benissimo sì ieri il 14 la giornata di San Valentino e devo proprio ricordare che l'associazione San Valentino che è un'associazione che sta al parco di San Valentino ogni anno e ho ricordato con piacere Franco Toffolo che è stato il vecchio presidente beh premia due coppie abbiamo premiato la coppia di Piccinato e sua moglie e di Portello e sua moglie sono due coppie uno di Bruniere e un altro di Pordenone che hanno lavorato sempre per la comunità e un premio all'altruismo cioè alle cose che queste coppie hanno saputo fare nei confronti di altri cittadini e soprattutto anche nella comunità quindi quale miglior atto d'amore e quindi lì San Valentino può essere questo se non premiare una coppia e riconoscere soprattutto perché oggigiorno si tende a essere tutto è dovuto non è così quando si parla di volontariato non è dovuto niente il volontario va a fare della sua opera la sua opera la compie bene e quando uno la riceve deve dire almeno grazie cosa che non è scontata oggi perché vi assicuro che io lavoro nel volontariato da 20 anni dopo un po' quando fai una cosa che in realtà tu impieghi il tuo tempo e certe volte anche i tuoi soldi per fare una cortesia per fare un aiuto a un altro e non ti dicono manco grazie perché in realtà sembra tutto dovuto chissà cosa guadagnerà questo qua perché è così ormai il volontariato poi il terzo settore è in rivoluzione in questi ultimi tempi quindi è bene che le associazioni facciano queste manifestazioni perché ricordano la gente che esiste ancora qualcuno che fa con piacere un atto di volontarietà un atto di altruismo e quindi questo è un premio che va dato e l'abbiamo dato ieri proprio in occasione di San Valentino nella sala consigliare della provincia che è sempre un luogo spettacolare perché veramente poi c'era un concerto ha un po' di nostalgia della provincia io ho tanta nostalgia della provincia e veramente non voglio essere cattivo ma qualcuno pagherà per questo adesso ci sono gli EDR mi sembra guardi gli EDR purtroppo sono delle cose che hanno sostituito l'UTI che hanno sostituito una serie di movimenti che in realtà cosa faranno? Le strade e le scuole in realtà la provincia aveva mille altre cose attorno non aveva solo le scuole e le strade aveva anche quello che poteva essere sociale quello che poteva essere i rapporti fra i comuni era un collante fra i comuni una cosa era buona l'Antolta era la provincia di Pordenone purtroppo qui abbiamo dei rappresentanti ma non saprei cosa dire a loro ma perché allora perché uno dei cavalli di battaglia di Fedriga era stato quello riproporremo le province sì perché non è stata portata avanti guardate costruzione le comunità gli enti di decentramento però il termine provincia non si è più utilizzato anzi gli hanno dato due mansioni la scuola le strade ma non basta perché non è provincia appunto perché si abbandonano guardi io provengo da un ambiente militare la difesa in Italia è stata fatta da uomini da uomini perché c'erano solo uomini non donne allora che venivano chiamati alle armi e hanno costruito quello che era un apparecchio che funzionava bene l'hanno smontato dopo 4-5 anni di eliminazione totale di quella che doveva essere l'atto di volontariato di ogni cittadino a favore della nazione non sarà più possibile ricostruire neanche un esercito di leva adesso perché in realtà quando si perdono le cose che sono state costruite negli anni ma che sono state smontate un po' come la provincia si è avuta la capacità di smontarla proprio perché era pervicace e di fatti siamo talmente stupidi che l'unica provincia è stata quella è stata quella di Pordenone si va di là del meschio si arriva al Piave si trova Treviso e tutte le altre province siamo stati più beotti proprio devo dire perdendo anche le tradizioni perché le tradizioni del provincia di Pordenone erano tradizioni importanti e quindi ieri mi ha fatto un po' di nostalgia ritornare lì in quel luogo dove abbiamo tanto lavorato io e la Santo Ciriani perché eravamo lui il presidente e io il vice e abbiamo condotto buone cose e c'era Antonio Consorti all'epoca e ce n'erano veramente delle persone vedremo cosa accadrà perché io credo insomma sarà difficile ricostruire tutto anche se c'è tanta buona volontà abbiamo due minuti ancora la giornata dell'affido giornata dell'affido una cosa molto importante l'abbiamo fatta sabato mattina l'abbiamo dovuto fare purtroppo in streaming qual era il problema voi sapete che la giornata dell'affido vuol dire ricevere un bambino a casa che non è il tuo e te lo tieni per un certo periodo di tempo noi abbiamo 35 famiglie affidatarie qui a Pordenone vi assicuro io le ho visitate accogliere un bambino che viene da una famiglia in disagio da una famiglia in atti di violenza da una famiglia di cose brutte è un ricostruire anche l'animo delle persone noi con l'affido stiamo lavorando per le generazioni future perché un ragazzo che viene affidato adesso non adottato affidato ricordatevi che la differenza fra l'affido e l'adozione sono due cose completamente diverse l'adozione si adotta il bambino e si perde la genitorialità dei genitori originali l'affido invece è una cosa che ti danno ti affidano questo bambino questo minore che può avere anche 16 17 anni dipende poi dalla situazione ti rimane a casa tua per un certo periodo di tempo tu ti affezioni lo ami come tuo figlio però poi deve ritornare nella famiglia originaria ritornare nella famiglia originaria vuol dire che lui la famiglia si è ricomposta e è ritornata ad essere una famiglia normale e il bambino può ritornare sereno a casa propria perché i figli devono stare a casa propria dove c'è un padre una madre che compongono una famiglia per poter crescere nel migliore dei modi grazie vice sindaco resterei a parlare con lei per ore perché questi temi interessano non soltanto sottoscritto ma credo a tantissime altre persone però il tempo stringe magari faremo uno speciale assolutamente lo possiamo fare grazie e capire anche dal punto di vista psicologico le dinamiche che poi arrivano sia agli affidattari che a chi deve lasciare il qui scusatemi ma facciamo dei sunti anche se io sono dei sunti ho 70 anni ma vorrei vedere molti giovani che sono come me grazie vice sindaco ci vedremo nei prossimi appuntamenti saluto e ringrazio Eligio Grizzo vice sindaco del comune di Pordenone un centinaio di migranti rintracciati nella notte a buio soppo e collo redo di monte albano andiamo con il servizio la polizia di stato della questura di Udine è stata impegnata nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 febbraio in un'operazione di identificazione di quasi un centinaio di migranti si tratta di cittadini stranieri di diverse etnie scaricati da trafficanti di uomini non è ancora chiaro se si trattasse di un'azione coordinata o meno alcuni di questi passeur sarebbero stati fermati e i rispettivi i mezzi sarebbero stati posti sotto sequestro le segnalazioni sono giunte in particolare intorno alle 3 e mezza di notte quando alcuni automobilisti in transito hanno notato la presenza di gruppi di numerosi persone rigorosamente in fila indiana lungo la strada provinciale Osovana a Buia poco dopo intorno alle 4 lo stesso genere di segnalazione è arrivata lungo la ex provinciale 49 a Collo Redo di Monte Albano alcune telefonate hanno informato le forze dell'ordine della presenza di alcuni gruppetti tutti in cammino in direzione di Udine alcuni migranti sono riusciti a dileguarsi nella campagna prima dell'arrivo da parte delle forze dell'ordine una volta identificati dagli agenti della polizia di stato della questura del capoluogo frullano alcuni gruppi sono stati già portati negli spazi dell'ex caserma Cavarzerani di via Cividale a Udine sono stati avviati al triage e in seguito posti in quarantena fiduciaria andiamo in Veneto abbiamo l'ospite in compagnia di Rosario Padovano Vellalinea Innanzitutto dico che con la giunta c'è un'armonia che non avrei pensato all'inizio proprio c'è disponibilità da parte di tutti quindi sta a significare che in questa maggioranza insomma si lavora molto ma molto bene qualsiasi siano le proposte dico dei vari assessori vengono discusse sì in giunta ma vengono fino ad oggi tutte approvate quindi anche questo è un bel segnale che si può cooperare e soprattutto lavorare con una vera armonia per quanto mi riguarda ormai è una cosa molto risaputa direi sono quasi ripetitivo che il mio grande obiettivo è quello di intercettare i turisti d'estate ovviamente di Vivione e di Caorle e farli venire in qualche maniera in quel di Portoguaro oggi ho un progetto che sarà approvato entro questo mese e appunto dalla giunta stessa che ovviamente è quello che ho più volte descritto di raggruppare tramite le agenzie di viaggi di Vivione e di Caorle raggruppare i turisti portarli in quel di Concordia Sagittaria in bus e poi con una barca da Concordia Sagittaria verranno trasportati in quel di Portoguaro quindi un collegamento bus barca e magari occorrerà secondo lei potenziare il comparto ferroviario e il comparto degli autobus tra Portoguaro e le spiagge per incentivare anche gli arrivi delle persone che in qualche modo ci lavorano a Portoguaro sicuramente ma di questo so che stanno già interessando diciamo le agenzie preposte che appunto insieme alla TVO di potenziare come lei è ben detto il tragitto soprattutto Bibione Portoguaro e di tutto questo c'è un tavolo rotondo direi di Bibione che mi hanno invitato come assessore al turismo a partecipare tutti i mercoledì siamo in videoconferenza per vedere dei progetti per far sì che Portoguaro possa in futuro essere il punto di riferimento di Bibione ringraziamo dunque Pietro Rambuschi per il suo intervento restituiamo la linea alla redazione centrale andiamo a Monfalcone tre arresti per reati di estorsione e caporalato il servizio i carabinieri della compagnia di Monfalcone in collaborazione con i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Gorizia alle prime luci dell'alba hanno dato esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal tribunale di Gorizia nei confronti di tre uomini responsabili dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro estorsione e somministrazione fraudolenta di mano d'opera i reati sono stati commessi a Monfalcone nel comune di Falconara Marittima Ancona a partire dal 2018 destinatari di questi provvedimenti sono i responsabili di una società con sede nella provincia di Ancona operante in appalto diretto con l'impiego complessivo di circa 170 lavoratori all'interno dei cantieri di Monfalcone Genova e Ancona della società Fincantiere S.P.A. che è risultata estranea ai fatti la complessa attività di indagine compiuta dalle forze dell'ordine ha consentito di svelare la condotta criminosa degli arrestati che nel ruolo di capocantiere con minacce si facevano restituire una parte dello stipendio percepito in busta paga dai lavoratori quasi tutti extracomunitari si è potuto acclarare che altri due indagati due dipendenti erano incaricati della riscossione del denaro presso i lavoratori nel caso in cui un lavoratore si fosse rifiutato di restituire la sua quota entravano in gioco i tre uomini arrestati che minacciavano i lavoratori mediante violenza fisica e verbale o anche prospettando loro la riduzione dell'orario di lavoro il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto di lavoro le somme sottrate alle vittime si attestavano intorno al 15% dell'importo complessivo percepito in busta paga e per l'assunzione di un lavoratore veniva corrisposta ai due capocantiere una somma variabile tra i 700 e i 1000 euro in alcuni casi veniva addirittura richiesto il pagamento di 50 euro al mese per l'utilizzo degli armadietti necessari agli operai per cambiarsi d'abito all'inizio e al termine del turno di lavoro ai lavoratori extracomunitari è stata estorta anche gran parte della somma percepita con la cassa integrazione nel periodo di lockdown nei mesi di marzo e aprile è stato eseguito il decreto di sequestro preventivo del denaro che figurava sui conti correnti intestati per un importo complessivo di 31.500 euro considerato quale risultato delle somme illecitamente sottratte alle parti offese al momento sono 16.000 le vittime individuate nell'ambito dell'attività d'indagine ma non si esclude che possano aumentare in seguito alla successiva testimonianza di altri operai saluto e ringrazio l'amica Chiara Dajau consiglia regionale in Friuli Venezia Giulia per il Partito Democratico buonasera grazie a lei grazie per essere in nostra compagna due gli argomenti poi magari cammin facendo troveranno fuori anche il terzo però è venuta fuori un po' una questione tra il sindaco ciriani il suo vice Ligio Grizzo la questione delle sepolture islamiche ebbè uno dice chi vive in Italia non c'è religione che i nostri cimiteri sono laici non quindi religiosi il sindaco dice non ne avvedo la necessità ci sono già dei cimiteri che possono essere diciamo strutturati per insomma queste sepolture islamiche e Ligio Grizzo dice ormai si sente il clima da campagna elettorale vengono tirati fuori ciclicamente questi temi guarda caso quando c'è bisogno di raggranellare dei voti così no guardi direttore non è assolutamente così questo convegno era previsto essere fatto a novembre e in realtà ci sono stati dei problemi per cui è stato spostato poi abbiamo avuto tutto il periodo dei vari lockdown delle zone rosse zone arancioni e tutta una serie di questioni per cui siccome avevamo anche degli interlocutori che non erano del luogo e nonostante lo facessimo online abbiamo dovuto collimare gli impegni di tutti ed è stato fatto adesso ed è assolutamente scevro da qualsiasi intento elettoralistico tant'è che addirittura guardi arrivano anche critiche dalla parte opposta dicendo che queste cose ci fanno perdere voti per cui io allontanerei questo convegno è frutto di una buona pratica secondo me che la politica deve sempre tenere che è quella di rispondere a quelle che sono le esigenze i problemi dei cittadini e rispettare i diritti che sono dei cittadini è stato fatto tutto un lavoro anche con con queste persone che ci hanno presentato testimonianze di vita e voglio ricordare sia chiaro che qui non parliamo di stranieri o solo di stranieri abbiamo cittadini italiani convertiti all'islam e abbiamo cittadini italiani cioè persone che sono nate magari all'estero sono di religione islamica ma che sono cittadini italiani quindi noi parliamo di diritti di cittadini italiani loro chiedono semplicemente di poter seppellire i loro morti secondo quella che è il detamme diciamo della loro religione e peraltro se avete modo di cercare nel sito dell'UCOI che è l'associazione che riunisce a livello nazionale tutte le organizzazioni islamiche le prescrizioni si riducono veramente solo al fatto che le tombe siano orientate in direzione della Mecca questa cosa qui non c'è in tutti i nostri cimiteri e motivo per cui preferiscono come ha detto il sindaco giustamente nel video che ha registrato oggi e che ha messo sulle sue social oggi preferiscono andare a Rorai Grande mentre da altre parti non possono andare e preferirebbero poterlo fare oltretutto fino ad ora diciamo la maggior parte di queste persone quelle nate all'estero preferiva spostare i propri morti nel paese di origine il lockdown ha reso problematica questa cosa per il blocco dei trasporti e poi c'è una questione anche di costi di trasporto di questi morti allora perché non possono esercitare il loro diritto qui considerando soprattutto che poi il volere essere sepolti qua io credo che ciascuno di noi ha questo desiderio di essere sepolto laddove ha vissuto in quello che sente la sua terra e il suo luogo se queste persone chiedono di essere sepolte qui significa che sentono la nostra terra casa loro e credo che questo sia un grande segnale di integrazione e anche di amore che hanno per questa terra vorremmo noi essere sepolti a centinaia di chilometri come è successo alla famiglia di fiume che non trovava posto qui e ha sepolto a Marghera fiume Veneto sì fiume Veneto ecco allora perché perché c'è una legge nazionale c'è un decreto del presidente della repubblica il 285 del 1990 che all'articolo 100 dice che nei nostri cimiteri e qui adesso capiamoci su cosa significa e come usiamo il termine laico o il termine a confessionale i nostri cimiteri non sono più cimiteri cattolici sono dei cimiteri che non sono dedicati a nessuna religione perché sono un servizio che lo Stato mette a disposizione dei cittadini per avere la giusta sepoltura il che non significa che dentro anche lo Stato è laico si lo Stato è laico ma laico non vuol dire ateo e non vuol dire a confessionale capisci allora il tema è noi seppegliamo i nostri morti e facciamo le lapide noi intendendo chi è di religione cattolica mette le sue lapidi con le croci e nessuno si scandalizza di questa cosa e non toglie niente alla laicità del cimitero il fatto che ci entri il sacerdote a benedire nel momento in cui c'è una inumazione o una tumulazione allora è previsto che possano esserci dei campi speciali l'articolo recita reparti speciali distinti e separati che siano dedicati alla sepoltura di cadaveri di persone di culto diverso da quello cattolico questa possibilità lascia discrezionalità agli amministratori locali laddove non ci sia una traduzione immediata di questa norma nei regolamenti nelle leggi regionali o nei regolamenti di polizia mortuaria comunale ecco allora è una discrezionalità che non ha ragione di essere perché un conto è la discrezionalità rispetto al fatto che sia necessario o meno ma laddove c'è una richiesta di un cittadino di esercitare un suo diritto l'amministratore locale non dovrebbe avere discrezionalità allora l'unica cosa che resta da fare noi abbiamo semplicemente non abbiamo parlato di cimiteri islamici ed è sbagliato il titolo del video che ha postato il sindaco di Pordenone oggi perché i contenuti e guardi glielo dico chiarissimamente sono esattamente quelli di cui abbiamo parlato in conclusione sabato questo convegno cioè io stessa ho proposto e ho messo in discussione delle proposte di modifica della legge regionale che è la 11 del 2012 anzi scusate la 12 del 2011 delle piccole modifiche agli articoli 27, 30 e 31 in cui si dice quando si parla di si danno le prescrizioni per i cimiteri la legge regionale dice che in ogni comune deve esserci un cimitero oppure che possono essere cimiteri per comuni che si mettono d'accordo si tratta di aggiungere un comma in cui si dice che i comuni di un'area vasta che in questo caso è LDR di cui parlava l'accessore Grizio prima no? almeno in uno dei cimiteri di questi comuni c'è uno spazio dedicato alle sepolture non cattoliche e dopo laddove si parla appunto del diritto alla sepoltura sapete che nel cimitero comunale possono essere sepolti i cadaveri delle persone che sono residenti nel comune o che sono morti nel territorio oppure ci sono altri casi particolari che possono essere decisi con una decisione del sindaco con una delibera del sindaco e della giunta ecco lì aggiungere un comma in cui si dice che in questi cimiteri che sono quei cimiteri che ha detto in forma consortile il sindaco Ciriani oggi possono essere sepolte le persone che hanno la residenza in tutti i comuni di quell'area vasta fine però pare che non cimiteri separati nessuna nessuna violazione di quella che è la laicità del cimitero semplicemente una condizione di uguaglianza per tutti per cui chi è cattolico seppellisce secondo i detami della sua religione e chi non è cattolico seppellisce secondo però pare che non sia possibile con il sindaco il sindaco nel video a meno che non abbiamo sentito due video diversi il sindaco dice che lui ha dato uno spazio a Villanova che quindi è d'accordo nel dare uno spazio per questo tipo di sepoltura riconosciuto che alcuni preferiscono aurorai perché lì ci sono delle tombe orientate e che lui è d'accordo non è che lui non è d'accordo con i cimiteri islamici di cui nessuno ha parlato ma che è d'accordo col fatto che vengano destinati degli spazi e che siccome non tutti i cimiteri hanno margine per fare questi spazi ha detto che a Pordenone nei cimiteri di Pordenone questi spazi non ci sono sarebbe d'accordo che si facessero i cimiteri in forma consortile fra più comuni quindi è quello che si chiede quindi siamo tutti d'accordo che il PD ha vinto questa piccola battaglia ma io guardi io adesso ho fatto una proposta di modifica delle leggi l'ho messa in discussione alle persone che hanno partecipato al convegno se riscontrerò la trasformerò formalmente in una proposta di modifica una proposta di legge di modifica in consiglio regionale mi auguro che a quel punto saremo tutti quanti d'accordo non c'è nessuna polemica guardi è proprio una risposta dei bisogni è un gesto di buona politica certo lei parlava di spazi spazi all'interno del governo ce ne è stati per tutti di fatto Draghi accontentato diciamo da Berlusconi a Salvini da Crini a Zingaretti quindi anche Grillo di fatto però parlare di Renzi allora io le faccio una domanda davvero molto semplice Renzi che conta il 2,5% ha messo in crisi il governo le dimissioni di Conte ed è rientrato diciamo nella diciamo dalla stanza proprio dei vincitori con un ministro addirittura allora le faccio una domanda ancora più semplice ma può una persona che effettivamente è stata leader di un partito è stata anche presidente del consiglio che poi è passato in minoranza ha fatto insomma davvero di tutto e di più è decidere le sorti di un governo e poi le voglio chiedere proprio anche un giudizio su questa nuova formazione del governo che mette d'accordo un po' tutti almeno il mio parere direttore è che potevamo arrivare a un risultato del genere anche lavorando con una diciamo con un maggior impegno all'interno del governo precedente e fra le forze politiche che sostenevano il governo precedente evidentemente a fare questa cosa non ci si è riusciti anche lì a fare la buona politica purtroppo non ci si è riusciti vuoi per la testardaggine di qualcuno vuoi per la testardaggine di qualcun altro per l'orgoglio di qualcun altro è una triste constatazione ma dobbiamo farla abbiamo l'abitudine ad invocare il salvatore del mondo anche Renzi lo è stato il salvatore del mondo in un certo periodo così come ce ne sono stati tanti altri ecco ovviamente questo lo dico senza nessuna offesa o volontà di sminuire che non mi permetterei mai le qualità del presidente Draghi che senz'altro è una persona più ancora che una personalità e una professionalità di alto livello e di cui dobbiamo sentirci onorati che abbia deciso di mettersi in prima persona in questo momento alla guida del governo ecco dico peccato che non ci sia riusciti attraverso un dialogo serio responsabile delle necessità degli italiani prima ho sentito il vice sindaco Grizzo dire se si tratta di aiutare gli italiani noi ci siamo ecco forse bisognava da più parti da più parti fare questo discorso anche prima assumersi la responsabilità di non fare propaganda ma di fare politica ecco oggi siamo in questo governo che ha un sostegno largo è chiaro che a ciascuno di noi non piace questa idea in un pezzo del nostro cuore questa idea di stare con delle persone con cui abbiamo una diversità di vedute totale non piace dobbiamo credo avere gli occhi a quello che è il risultato dobbiamo essere disponibili ad accettare il confronto quello che forse non si è fatto prima da più parti dobbiamo anche essere disponibili ad non accettare i compromessi troppo bassi e quelli che tradiscono quelli che sono i nostri valori un lavoro difficile perché stare insieme sotto uno stesso tetto per persone che la pensano diversamente è difficile e dobbiamo riuscire a farlo in vista di quello che è davvero il bene comune io la penso così poi esprimere giudizi adesso è molto complicato aspettiamo giustamente il presidente Draghi aspetta di comunicare perché dice finché non abbiamo fatto niente non abbiamo niente da comunicare allora forse la politica dovrebbe anche assumere altrettanta serietà di non giudicare quello che ancora non è stato fatto ne parleremo ancora grazie ovviamente alla dottoressa Chiara Dazzao che è consigliare il giornale in Flivenezia Giulio per il Partito Democratico ci vediamo nei prossimi appuntamenti grazie grazie a voi vi lascio in compagnia di un servizio che riguarda l'affica di arresti in fine settimana nel veneziano compreso anche un ingoiatore di ovuli di droga a seguire le previsioni del tempo un breve break pubblicitario e poi tutte le altre notizie che arriveranno dalla redazione di Udine e da quella del Veneto rimanete con noi ci sono due fatti criminosi che sono accaduti a Venezia nel fine settimana in seguimento arresti per le calli e i giardini veneziani presi i ladri a Cannareggio la segnalazione è arrivata il 16 di febbraio al Ponte delle Guglie decisivo è stato l'intervento di un passante che ha avvertito le forze dell'ordine in questo caso la collaborazione del cittadino è stata decisiva perché i ladri sono stati arrestati spaccio alla stazione ferroviaria di Venezia Mestre gli operatori e agenti della sezione di Polfer Polizia Ferroviaria hanno proceduto all'arresto di un trentenne nigeriano responsabile di traffico di stupefacenti gli agenti hanno controllato questa persona scesa da un treno proveniente da Verona ha cercato di ludere i controlli l'uomo è stato trovato in possesso di 4 ovuli termosaldati contenenti sostanza stupefacente destinata allo spaccio il successivo esame radiologico effettuato presso il locale ospedale dell'Angelo ha evidenziato la presenza nel suo stomaco di ulteriori 16 ovuli risultati contenere cocaina poi li avrebbe dovuti espellere per via rettale alla luce di quanto è emerso l'uomo è stato dichiarato in arresto e alla completa espulsione degli ovuli su disposizione della competente autorità giudiziaria è stato accompagnato alla casa circondariale Santa Maria Maggiore di Venezia dove senz'altro la digestione sarà migliore buona serata ben ritrovati condizioni di bel tempo oggi sulla regione con temperature basse durante la notte minima intorno ai meno 6 meno 8 gradi in pianura valori ben più bassi in montagna abbiamo raggiunto i meno 21 fusine meno 16 a Sappada intorno ai meno 12 meno 14 su gran parte delle località montane la giornata di domani è ancora freddo durante la notte ma già un po' attenuato quindi minimo intorno ai meno 4 probabilmente in pianura valori sempre a doppia cifra in montagna ma comunque in rialzo rispetto a oggi la giornata di domani martedì con cielo in prevalenza poco nuvoloso diventerà un po' più umido in serata sulla costa sulla bassa pianura più umido in prospettiva anche nella giornata di mercoledì soprattutto al mattino su pianura e costa possibili nubi basse dovranno poi diradarsi e c'è una prevalenza variabile nel corso della giornata di mercoledì la tendenza per la settimana diciamo che la prevalenza di inversione termica visto l'arrivo di aerea piumita in quota porterà verso la seconda parte a settimana maggior ristagno di nubi basse soprattutto su pianura e costa tempo migliore invece in montagna temperature in lieve ripresa buona serata a tutti ben ritrovati gentili telespettatori dalla redazione di udine gorizia e trieste di telepordenone apriamo questa nuova edizione del telegiornale con l'incidente in montagna ieri per tre escursionisti di cui uno che stava camminando sul ghiaccio con le scarpe da ginnastica ce ne parla Monica Bertarelli intervento del soccorso alpino ieri a Verzegnis è scivolato per una cinquantina di metri lungo il pendio ghiacciato procurandosi diverse fratture ad una gamba tre giovani due ragazzi ed una ragazza stavano percorrendo una forestale nella località della Carnia quando uno di loro un trentenne di San Daniele del Friuli che calzava delle semplici scarpe da ginnastica pur essendo presente sia la neve che il ghiaccio è scivolato dal ciglio prendendo velocità lungo il pendio sottostante nel tentativo di fermare la caduta si è aggrappato all'amico facendo cadere anche lui fortunatamente l'amico è riuscito a fermarsi riportando poche contusioni mentre lui è scivolato per 50 metri fermandosi contro delle piante immediati gli interventi che hanno messo in sicurezza e prestato i soccorsi sanitari a tutti e tre i ragazzi intorno alle ore 4 di questa mattina i vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Monfalcone supportata da due autobotti per l'incendio di una costruzione adibita ad ufficio di un rivenditore di autoveicoli a Fogliano Re di Puglia appena giunta sul posto una parte della squadra dei vigili del fuoco ha iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme mentre gli altri colleghi hanno provveduto a spostare alcune autovetture che si trovavano nei pressi della struttura incendiata evitando il loro coinvolgimento spente le fiamme i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area interessata dall'incendio le cause del rogo che non hanno coinvolto persone sono ancora in fase di accertamento e l'intervento si è concluso questa mattina alle ore 10 e 30 e torniamo a parlare di incidenti questa volta a Zulio c'è stato un incidente sul posto di lavoro è stato ferito alla gamba un operaio di 21 anni un incidente sul lavoro si è verificato stamane a Zulio poco dopo le 9 un operaio di 21 anni è stato elitrasportato in condizioni serie all'ospedale di Udine in codice giallo per un'importante lesione riportata alla gamba mentre il ragazzo stava lavorando gli è caduto addosso un bancale di vetri e il 21enne è rimasto con la gamba sotto lo stesso bancale immediata è stata la chiamata ai soccorsi che sono giunti poco dopo con l'elicottero del 118 e con i vigili del fuoco le condizioni del ferito sono serie ma fortunatamente non versa in pericolo di vita Sappada fa il tutto esaurito questo weekend con ice climbing cani da slitta e ciaspolate ce ne parla Monica Bertarelli Nel weekend Sappada pur con impianti di risalita chiusi ha ospitato migliaia di persone che nel rispetto delle norme anti-covid hanno vissuto una serie di esperienze outdoor organizzate dal consorzio Sappada Dolomiti Turismo in collaborazione con Promo Turismo FWG tra cui l'arrampicata su ghiaccio le ciaspolate nei boschi e nella vallata della località montana emozionanti escursioni con i cani da slitta accanto chi ha scelto di godere della storica pista del fondo e chi invece ha preferito una semplice passeggiata nella natura e nel borgo di Sappada vecchia è stato registrato il tutto esaurito nelle strutture alberghiere di Sappada e nei ristoranti alcuni dei quali hanno ricevuto prenotazioni per tre turni a partire dalle 12 fino alle 17 grande successo anche per il primo fine settimana di Dolomais il festival di arrampicata su ghiaccio giunto quest'anno alla sua seconda edizione più di 100 sono stati gli ospiti che si sono fatti accompagnare dalle guide alpine alla scoperta della disciplina dell'ice climbing tutte le attività si sono svolte nel pieno rispetto delle normative anti-covid si è tenuta questa mattina una riunione che ha coinvolto il sindaco di Udine Pietro Fontanini l'assessore alle infrastrutture e il territorio della regione Friuli Venezia Giulia Graziano Pizzimenti e alcuni referenti e responsabili della direzione commerciale RFI in merito a Udine 2050 il sindaco ha dichiarato come l'incontro abbia rappresentato il primo passo del percorso che porterà all'avvio del progetto Udine 2050 grazie al quale la città nei prossimi anni cambierà radicalmente volto attraverso la valorizzazione da un punto di vista economico sociale e ambientale di interi quartieri che oggi sono ai margini con il recupero delle aree dismesse nelle quali troveranno spazio abitazioni e servizi alla persona oggi sono emersi due elementi importanti ha dichiarato il sindaco Pietro Fontanini il primo riguarda il fatto che sia stato apprezzato il progetto mentre il secondo che la compatibilità di Udine 2050 con gli investimenti oggi in essere è stata confermata a partire dagli investimenti di 50 milioni a cui si aggiungeranno altri 200 parliamo di sport adesso perché invece una prestazione sotto tono e un pesante 3 a 0 è quello che l'udinese è riuscito a raccogliere ieri nella giornata nella sfida persa all'Olimpico di Roma la Roma dopo due sconfitte con Milan e Juventus torna alla vittoria allo stadio olimpico battendo con un secco 3 a 0 l'udinese la partita si mette subito in salita per i bianconeri che al quinto del primo tempo subiscono già il primo gol complice a una disattenzione sul lato debole dove Veretout anticipa Strieger Larsen e di testa porta in vantaggio i padroni di casa Musso nega la gioia del secondo gol a Veretout salvando con il piede ma pochi minuti dopo il centrocampista francese trova il raddoppio su calcio di rigore Mkhitaryan viene travolto in area da Musso e per l'arbitro non ci sono dubbi l'udinese accusa anche psicologicamente il colpo visto che dopo appena 25 minuti di gioco si trova in svantaggio per due reti la Roma non si accontenta e continua ad attaccare Pellegrini segna il 3 a 0 al trentesimo ma la rete viene annullata dal VAR per un fallo commesso da Mkhitaryan a inizio azione l'udinese nel secondo tempo prova a reagire con due conclusioni di Rodrigo De Paul che però calcia alto in entrambi i casi Paul Lopez ferma De Olofeu lanciato a rete forse l'occasione più nitida per i friulani ma l'attaccante spagnolo non riesce a superare il portiere avversario il terzo gol della Roma porta la firma di Pedro che si trova la palla tra i piedi dopo una carambola e spiazza Musso una sconfitta pesante per i friulani dopo tre partite senza subire reti la difesa bianco-nera è stata bucata più volte dagli avversari una sconfitta però contro una big del nostro campionato che ha condizionato la gara segnando già nei primi minuti testa adesso al Parma quando settimana prossima al Tardini la squadra di Mister Gotti dovrà reagire e dare una risposta sul campo Ancora sport perché l'APU Old West Udine invece torna a sorridere vince la sua seconda gara consecutiva e torna la vittoria anche al Palasport Carnera Con il risultato di 86 a 80 l'APU Old West Udine vince la sua seconda gara consecutiva tornando al successo anche al Palasport primo Carnera la gara si mette subito bene per i bianconeri che dopo alcuni minuti di equilibrio provano a prendere il largo grazie alle giocate di Johnson che ha chiuso anche ieri la gara con 20 punti a referto prima dell'intervallo invece i protagonisti sono Francesco Pellegrino con due azioni difensive superlative e Matteo Schina che realizza 7 punti nella sua partita e prima della sirena segna in penetrazione il canestro che vale il più 9 nel terzo quarto Udine scappa con un parziale di 10 a 0 si ritrova addirittura sul più 21 massimo vantaggio della gara nell'ultimo quarto la musica cambia perché se la difesa dei Friulani era riuscita ad arginare uno dei migliori attacchi del campionato negli ultimi 10 minuti Capodorlando trova le forze di riportarsi fino al meno 6 con il capitano Matteo Laganà sugli scudi e un ottimo Xavier Johnson con meno di un minuto sul cronometro però Mussini e Fullan dalla lunetta scacciano i fantasmi dell'ultimo periodo e Udine vince salendo a quota 9 vittorie in campionato grandissima prestazione anche per Marco Giuri uno dei migliori ieri con 9 punti e 7 assist queste invece le parole di Matteo Boniccioli a fine gara è facile appena le cose vanno male bollare la gente come io rincognito i giocatori di mercenari la realtà è che ci teniamo tutti molto e quando tu tieni molto a qualche cosa e vedi che la cosa non sta andando come stava andando prima perché non è che non possiamo nemmeno dire che non sta andando come speravo sta andando che hai vinto 10 partiti su 12 improvvisamente per delle cause ribadisco banali e spiegabili anche a un bambino di 5 anni improvvisamente le cose non vanno più come vuoi nonostante tu provi 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 ti trovi questo muro di gomma davanti e siccome siamo esseri umani non robot non macchine questo dispiace perché siamo consapevoli di essere ospitati da una società super professionale in una città dove si vive benissimo in un palazzo che è la nostra casa poi siamo qui da mattina e da sera e quindi diciamo suggerisco un'analisi diversa da quelle banali di cui alcuni si sono fatti portatori la realtà è che questo è un gruppo di persone che ci tengono al loro mestiere e che essendo esseri umani quando le cose non andavano bene si sono un po' incupiti anche perché c'era consapevolezza da parte di tutti che non andavano bene nonostante noi continuassimo a lavorare con grande intensità testa adesso alla Sigeco Piacenza che arriverà a Udine mercoledì 17 febbraio per una sfida di alta classifica in programma alle 18.30 per questa edizione del telegiornale è tutto ringraziamento a voi per averci seguito dalla redazione di Udine Gorizia e Trieste di Telepordenone come al solito dopo una breve pausa per la pubblicità linea al collega del Veneto Gentili telespettatori ben trovati dunque dalla redazione di TPN Veneto cominciamo subito con le notizie del nostro telegiornale è stato rilasciato il nulla osta per il funerale di Alberto Luderin detto Celio trovato senza vita venerdì in casa sua dai militari dell'arma della compagnia di Porto Gruaro si tratta di morte naturale Luderin 72 anni morto da sole in casa dopo una vita passata all'estero trascorsa per lavorare fuori dall'Italia è deceduto per un arresto cardia con semplice infarto nella sua abitazione di Giai non dava notizie di sé da tre giorni i funerali verranno celebrati domani alla chiesa di Giai dove è in corso il rosario alle 10 oggi i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti in via Martiri di Belfiore per l'incendio di materiale accatastrato sotto il portico di un'abitazione che ha provocato un'alta colonna di fumo nero visibile da molto distante nessuna persona è rimasta fortunatamente ferita i pompieri arrivati con un autopompo un autoboto e un autoscale nove operatori hanno iniziato lo spegnimento delle fiamme evitando che il rogo potesse propagarsi all'interno dell'edificio disabitato a bruciare sono state sedie panche alto materiale d'arredamento d'ufficio le cause dell'incendio sono al vaglio non si esclude nemmeno il dolo lo comunicano propri vigili del fuoco doppio blitz della polizia iticovenatoria della città metropolitana di Venezia sventati sul ramo del canale Brianna a Cittanova frazione di Raclea due episodi di bracconaggio salvate dalle reti abusive 10 tartarughe e una trentina di carpe e ora andiamo con le fotografie relative all'incidente di oggi in via Acquador incrocio via del lago in territorio di Concordia Sagittaria dove una ragazza di San Michele al tagliamento la 25 è Francesca Chiandotto purtroppo è uscita di strada con la sua automobile la dinamica resta da chiarire sul posto i rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale la giovane è decollata da un terrapieno vicino a una chiavica e la vettura ha scavalcato il canale sottostante e si è adagiata poi dalla parte opposta sulla strada parallela un incidente terribile la donna ha rimediato trauma cranico e diverse botte in più punti del corpo la prognosi è riservata c'è ottimismo tuttavia sulle sue condizioni la guardia di finanza di venezia ha sequestrato 140.000 prodotti pericolosi provenienti dalla cina l'operazione è scaturita dal controllo operato da una pattuglia della compagnia di chioggia a un auto articolato con targa estera in transito lungo la statale romea il monte delle contravvenzioni è di 170.000 euro insultato e picchiato tra San Michele e Fossalta dopo un inseguimento di 5 km questa è la sorte della vice comandante della polizia locale di Bibione la notizia è stata confermata dai vertici Matteo Cusana ha rimediato ferite guaribili in pochi giorni era successo che sabato durante un normale giro di pattuglia lui e il collega fossero stati improvvisamente insultati da un automobilista di passaggio è scaturito l'inseguimento poi la colluttazione dopo 5 km in territorio di Fossalta Cusana ha lamentato delle ferite si è fatto refertare al pronto soccorso anche l'altra persona è transitata per il pronto soccorso di Portogruaro ma da fonti sanitarie abbiamo praticamente scoperto che questa persona lamentava dei guai a un ginocchio mentre piangeva odiosa truffa messa in atto a Borso del Grappa è scoperta dai carabinieri la stazione dei carabinieri di Pieve del Grappa Treviso ha deferito in stato di libertà per il reato di truffa in concorso due uomini della città metropolitana di Roma conosciuti alla giustizia gli indagati dapprima hanno contattato una studentessa di 21 anni di Borso del Grappa che aveva messo in vendita online in internet un letto quindi inducevano in errore alla vittima facendosi accreditare la somma complessiva di 1170 euro su una loro carta prepagata per poi rendersi irreperibili il padre e marito violento protagonista di un pestaggio dieci giorni fa circa di moglie e figlia è stato allontanato ancora di più dalla abitazione delle vittime di questa violenza prima alloggiava a quasi un chilometro adesso a dieci chilometri in territorio di Azzano Decimo la vicenda è seguita dalla polizia del commissariato di Portogruaro pomeriggio di terrore poi ieri alle 15 in via Verga a Portogruaro dove un terrificante incendio ha distrutto un appartamento per fortuna vuoto al momento del rogo al secondo piano del condominio Orione in via Verga una laterale di via San Giacomo non lontano dalla sede del centro anziani Pertini sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Portogruaro di San Vito a Tagliamento e del comando metropolitano di Mestre proprio un ex carabiniere da eroe ha staccato il gas della palazzina mentre la moglie di quest'ultimo ha organizzato anche l'evacuazione sempre del condominio Orione i danni ammontano a più di 100 mila euro la famiglia padre madre e due figlie è sfollata con circa 1,9 milioni di euro verranno eseguiti interventi di ristrutturazione e adeguamento antisismico nella caserma dei carabinieri di Bibione lo ha comunicato questa mattina il sindaco di San Micala Tagliamento Pasqualino Codoniotto impianti sciistici fermi fino al 5 marzo l'indignazione del Veneto il servizio primo scivolone del governo Draghi e sarà difficile tenere unita la maggioranza se queste sono le avvisaglie il ministro della salute e speranza che adesso governa assieme alla Lega incredibile fino a soli pochi giorni fa ha deciso di prorogare la chiusura degli impianti sciistici fino al 5 marzo lavoratori stagionali a casa senza uno stipendio con la promessa di ristori che potrebbero non arrivare mai il Veneto è in rivolta e anche Bonaccini presidente capo delle regioni ha avuto da ridire sulla decisione di un suo compagno di centro-sinistra a questo punto la palla passa a Zaia e alla Lega ma vorranno davvero governare con i comunisti se queste sono le decisioni a favore dei lavoratori staremo a vedere 7 bambini e una loro maestra sono risultati positivi al coronavirus in una scuola elementare di Porto Gruaro si ipotizza un tampone di massa per tutti gli alunni il caso assomiglia molto al focolaio che si era sviluppato in una classe di caorle nell'autunno scorso domenica caratterizzati da assalti alle spiagge sulla costa veneziana 200.000 persone si sono riversate tra Bibione e Sottomarina il primo test in vista della Pasqua covid permettendo il servizio lo firma il nostro collega Alessio Conforti è stata sufficiente una bella giornata di sole con 10 gradi nelle ore centrali per assistere a una domenica di assalto sulle spiagge della costa veneziana gli arenili da Sottomarina a Bibione sono stati la meta più gettonata per tanti veneti usciti dalle città per godersi l'aria seppur fredda del mare adriatico a Jesolo code fin dalle prime ore della mattinata con tante famiglie sul lungomare per la matta passeggiata mascherine gialligenizzanti e misure anti-assembramento erano il must anche se non sono mancate le polemiche soprattutto sui social network per l'opportunità o meno della classica scampagnata domenicale ai tempi del covid-19 tuttavia bar e ristoranti hanno lavorato a pieno regime anche nel pomeriggio dopo le 15 i pochi hotel aperti hanno riempito le camere soprattutto i 5 stelle sembrava un assaggio primaverile delle classiche domeniche di attesa in vista dell'estate unite a un weekend da zona gialla e alla classica festa degli innamorati si stima che siano state almeno 200.000 le presenze su tutta la costa il primo test in vista della Pasqua che cade il 4 di aprile è stato positivo ma da qui alla santa festività ci sono meno di 50 giorni e soprattutto la possibilità di nuove restrizioni sempre dietro l'angolo se non arriveranno ulteriori miglioramenti sul fronte del contagio e ormai è in lutto per la scomparsa di Umberto Cella imprenditore in pensione morto 82 anni a Santo Domingo capitale della Repubblica Domenicana dopo un mese di ricovero in ospedale è deceduto come riporta la tribuna di Treviso causa Covid Cella aveva iniziato la sua carriera lavorando alla Gemeaz di San Polo di Piave Pedone è travolto da una macchina è ricoverato in condizioni serie all'ospedale civile di Portogruaro il fatto è accaduto sabato sera attorno alle 20 l'uomo un 50 anni di origine marocchina stava attraversando una strada nei dintorni dell'ospedale quando è sopraggiunta una macchina che l'ha travolto inizialmente si era parlato addirittura di un atto di pirateria stradale ma questa tesi è stata smentita categoricamente dai carabinieri avverte un malore muore in piena notte nuova tragedia nella città di Portogruaro Silvano Fagotto classe 1936 operaio in pensione si è sentito male a letto la figlia ha avvertito i soccorsi contattando il suo M118 gli operatori sanitari e il medico hanno tentato di rianimare il paziente per oltre mezz'ora ma alla fine hanno dovuto constatare il decesso il recupero della salma è stato eseguito dalla dita dal MAS attesa per il nulla osta e quindi per la data dei funerali due piccole bambine sono rimaste ferite a Portogruaro in circostanze diverse il servizio due bambine al pronto soccorso nell'ultima settimana per degli incidenti che avrebbero potuto avere anche delle conseguenze più gravi si è stretta la mano attorno a una porta a una piccola bambina delle scuole elementari di Portogruaro che ha rimediato una pesante botta la chiusura è stata accidentale la papà l'ha portata al pronto soccorso è stata dimessa con una proniosi di pochi giorni invece più grave l'incidente di un'altra bambina di 7 anni che stavolta stava giocando con il proprio amichetto nel cortile quando a un certo punto è caduta fratturandosi il braccio al pronto soccorso di Portogruaro le due fanciulle hanno trovato la rapida ed efficace assistenza degli operatori sanitari la squadra di medici e infermieri ha rassicurato le piccole e poi dopo le cure del caso le ha dimesse per fortuna che c'è una struttura come questa ancora incidenti stradali stavolta a Caorle domenica pomeriggio una BMW con alla guida un 26enne di Caorle finito su un pilone del ponte delle bilanze a Ca Corniani la macchina si è intraversata rendendo praticamente impossibile transitare sul manufatto gravi problemi al traffico scontro tra due vetture fuori da un parcheggio all'incrocio con la Triestina Bassa invece a San Giorgio di Rivenza il bilancio qui è più pesante si parla di un 55enne di Iesolo diretto appunto verso la città Iesolana che è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere altro incidente stavolta sulla ferrata in direzione Portogruaro ritirano la macchina perché ubriaco sequestro sulla ferrata in località Varmo non lontano dall'incrocio per Canusso Ponte Madrisio sul ponte del Tagliamento quasi alla confine con la provincia di Pordenone protagoniste dello scontro un violento tamponamento una Tiguan e una Tipo nel pomeriggio di ieri domenica subito sul posto le forze dell'ordine che hanno accertato con l'ettilometro che il vecchietto aveva davvero esagerato l'incidente è avvenuto vicino alla piazzale dove c'è il distributore con l'annesso ristorante alla ferrata un incidente che ha creato ingorgo al traffico e soprattutto tanta paura ancora lavori in Viale Pordenone a Porto Gruaro stamattina per nuovi impianti di illuminazione ci sono state delle deviazioni tra via Artigianato e via Pratiguori che hanno comportato un traffico decisamente sostenuto mondiali di cortina discesa libera sfortunata per gli atleti italiani una gara da brividi ma più che altro sembrava uno slalom gigante non una discesa libera questo ha favorito sicuramente il primo discesista a cortina ai mondiali e Krikmaier ha concesso il bis dopo loro in supergigante l'austriaco si è confermato in discesa libera precedendo di un solo centesimo il secondo classificato Paris si è classificato quarto in Erofer quinto i due hanno sbagliato una curva e hanno perso velocità ma Paris in quel momento sembrava il più veloce paura per l'atleta francese Maxime Mouzaton che nel corso della discesa si è ribaltato andando a finire contro le recinzioni tutto sommato gara gradevole spettacolo con le frecce tricolori che si sono esibite sul cielo e sui monti di cortina grande commozione nella giornata di sabato i funerali di Lino Bucciol al 91 anni storico esponente della banda musicale di Lugugnana viveva a Portogruaro suonava il sassofono e musicista per diletto è stato ispiratore di molti musicisti nella stessa Lugugnana Lino Bucciol lascia nel dolore le figlie Sonia Marilena e Susi 30 a 20 questo è il punteggio della finale storica di Coppa Italia di Pallamano femminile Oderso ha battuto il Salerno in servizio grandissima impresa dell'Oderzo che conquista per la prima volta la Coppa Italia femminile di Pallamano la squadra allenata da Alessandro Cavallaro originario di Siracusa poliziotto della Polposta di Treviso ha battuto in finale la Iomi Salerno per 30 a 20 prendendosi una colossale rivincita rispetto alle sconfitte in Coppa Italia di qualche anno fa e anche nella finale di Supercoppa di due anni fa la vittoria in Coppa Italia ammette l'Oderzo nella prossima finale di Supercoppa sarà in palio dunque un nuovo trofeo eppure per 28 a 27 la formazione aveva battuto il mestrino soltanto i tiri di rigore al nono tiro dei 7 metri in pratica al quarto ad oltranza un po' di fortuna ha aiutato sicuramente gli audaci in questo caso le ragazze giallonere che portano a casa a dirla tutta il secondo trofeo nazionale dopo la Coppa Italia di A2 maschile vinta in caso di promozione di Serie A1 tre anni fa da quella formazione che poi non disputò la massima serie grande successo dunque per Duranna e compagne la cubana Duranna autrice di una prestazione fantastica con 14 reti il Salerno era falcidiato dalle assenze dovute alla Covid ma proprio per il Covid quando erano tutte contagiate lo terzo dovette per forza rinunciare alla Supercoppa per una decisione Salomonica della Federazione Figi H una decisione assolutamente ingiusta Oderzo che aveva vinto il girone regolare dello scorso campionato di Serie A1 infatti pur non essendo stato assegnato allo scudetto aveva il diritto di disputare la finale di Supercoppa ma proprio perché ha ammalato lo staff tecnico la Federazione decise di estromettere de jure la formazione opitergina da questa competizione oggi è il momento delle rivincite arrivata quella Coppa Italia il primo titolo femminile dopo anni di investimenti e di passione forza Oderzo prossima fermata lo scudetto concludiamo con la pallavolo sconfitta per il Portogruaro mentre la Giorgione vince 3 a 1 le big match con l'Altea Vicenza e sale in vetta da sola alla classifica sentiamo una delle protagoniste della vittoria di ieri Aurora Poser attaccante Aurora Poser raggiante al termine della partita con Vicenza il Giorgione vince 3 a 1 una grande prova grandissima prova abbiamo lavorato molto su di noi questa settimana anche sull'altra squadra ovviamente ma soprattutto su di noi data l'ultima partita e questo lavoro ha dato dei gran bei frutti avevate perso sì contro il Fratte a Santa Giustina in Colle però è stata una sconfitta che non ha destabilizzato l'ambiente no anzi ci ha caricato ancora di più e appunto come si è potuto vedere oggi abbiamo dato il nostro meglio attenzione perché Vicenza dice di essere una delle squadre più forti ecco di questa stagione di B1 voi l'avete battuta facendo i tre punti questo cosa significa? noi eravamo consapevoli della squadra che andavamo a scontrare nonostante ciò un piccolo scivolone il terzo set e poi ci siamo riprese non le abbiamo sottovalutate anzi eravamo proprio consapevoli della loro forza come ti sei inserita qui a Castelfranco Veneto? devo dire che il gruppo squadra mi ha accolta a braccia aperte e la città è meravigliosa quindi non potevo chiedere altro era questa la nostra ultima notizia dalla redazione di TPN Veneto io vi ringrazio vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale grazie a tutti voi ricordo di indossare la mascherina arrivederci alle prossime puntate grazie ancora saluti martedì tempo ancora stabile con cielo sereno poco nuvoloso per passaggi a tratti di nuvolosità medio alta precipitazioni assenti temperature in generale aumento più sensibile in montagna specie sulle dolomiti clima diurno meno freddo rispetto ai giorni precedenti soprattutto in montagna venti in pianura deboli occidentali poi in rotazione a deboli orientali del pomeriggio in quota tesi forti da nord e nord ovest tra la notte e gran parte del mattino in seguito in prevalenza da nord ovest in parziale attenuazione mare poco mosso grazie a tutti